Va a gonfie vele il turismo in Piemonte. Nel 2022 gli arrivi sono aumentati del 3,3% rispetto al 2019, i pernotamenti dello 0,1%, con percentuali che arrivano rispettivamente al 56,6% e 51,3% rispetto al 2021, in controtendenza rispetto al dato nazionale che rimane sotto i livelli pre-Covid, meno 10,9%. Questi in sintesi i dati dell'Osservatorio Turistico Regionale, illustrati alla presenza del Presidente della Regione Alberto Cirio, dell'Assessore al Turismo Vittorio Poggio e del Presidente di Visit Piemonte Beppe Carlevaris. Tra i numeri più rilevanti la crescita dei movimenti dall'estero con il 49% dei pernotamenti a fronte del 44% del 2019. Anche il turismo domestico è risalito rispetto al 2021, ma non ha però ancora raggiunto i valori pre-pandemia. Buoni i risultati della città di Torino, che registra un incremento rispetto al 2019 del 5,6% di arrivi e del 6% di pernotamenti. È stato un grande lavoro di squadra, istituzioni e ovviamente privati, perché il mondo imprenditoriale ha dimostrato una grande solidità. Abbiamo una Regione che si propone con un'offerta molto variegata, che va dalle colline ai laghi, alle montagne, alle città d'arte, per cui questa collaborazione pubblico e privata ci ha davvero portato dei risultati che ci soddisfano. Consegnato il nuovo progetto per la superstrada Novara-Vercelli, che permetterà di collegare i due capoluoghi riducendo drasticamente i fenomeni di congestione dovuti al traffico pesante e al passaggio nei centri abitati. Sostenuto dalla Regione Piemonte, prevede la realizzazione di una superstrada di circa 11 chilometri a due corsie per senso di marcia separate da sparti traffico e servirà un bacino di popolazione attorno ai 300 mila abitanti. Presenti alla consegna del progetto a Vercelli, il Presidente della Regione Alberto Cirio, l'assessore all'ambiente Matteo Marnati e l'assessore alle infrastrutture e trasporti Marco Gabusi. Un'infrastruttura di cui si parla da oltre 40 anni, ma siamo stati noi a finanziarne la progettazione e la provincia di Vercelli insieme a quella di Novara a realizzare il primo step progettuale. Ecco che oggi si fa un passo importante perché si vede finalmente il tracciato e soprattutto si può mettere in gara questo tracciato in maniera che poi venga eseguito. Crediamo che sia importante aver trasformato un sogno in una realtà e soprattutto crediamo che sia importante dare seguito insieme alle istituzioni locali a questa via che collegherà Vercelli con Novara e tutti i servizi che in questi territori sono comuni e molto essenziali per i cittadini. Diventa operativo l'Orecol, organismo autonomo di controllo, che ha come obiettivi la trasparenza e il contrasto dell'illegalità negli atti amministrativi della Regione Piemonte e delle partecipate regionali, oltre a maggiori controlli sulla gestione delle risorse del PNRR. Presieduto da Arturo Soprano e composto anche da Aurora Andrea Di Benedetto, Roberto Fantini, Luca Libra e Nicola Longo. La Regione ha voluto dotarsi di uno strumento in più. La Corte dei Conti ce l'aveva segnalato e noi che attuiamo quelle che sono le buone indicazioni per fare bene abbiamo realizzato attraverso una legge un organismo autonomo, terzo, che sarà ulteriore garanzia di trasparenza e legalità di tutti gli atti della pubblica amministrazione regionale, che ha già la sua attività di controllo interno, che funziona e funziona bene, ma che proprio in questo momento in cui col PNRR e con i fondi europei arrivano risorse nuove ha necessità di strutturarsi con maggior forza e determinazione affinché la garanzia sia piena che i soldi dei cittadini sono rispettati con trasparenza, onestà e legalità. Dimostrare che è possibile contribuire alla pace e alla sicurezza alimentare per la popolazione ucraina, realizzando una filiera agroalimentare inclusiva che unisce l'Italia all'agricoltura locale di un paese colpito dalla guerra. E questa è la sfida ambiziosa alla base di Bread for Peace, farina, pane e grissini per la pace in Ucraina, progetto promosso da Pausa Caffè e Nova Coop per sostenere e rafforzare le capacità produttive degli agricoltori ucraini nella regione di Leopoli. Il progetto è stato presentato al panificio sociale della Casa di Eclusione San Michele di Alessandria, con un incontro con autorità e organi di stampa e una visita durante la lavorazione da parte dei detenuti impiegati nel laboratorio di panificazione. Per la regione Piemonte sono intervenuti gli assessori all'agricoltura Marco Protopapa e alla cultura e turismo Vittoria Poggio.